Buonasera, sono molto contento di essere qui a presentare in anteprima assoluta questo nuovo libro di Marco Vichi, nel più bel sogno, edito da Guanda, come dice anche il sottotitolo, una nuova avventura del commissario Bordelli, credo siamo arrivati al settimo episodio, se non ho contato male, e devo dire che si percepisce molta attesa, qui Marco ha scritto un libro almeno apparentemente diverso dai precedenti, perché è un libro molto corposo, sono oltre 600 pagine, che potrebbero quasi spaventare, ma vi assicuro che sarà una lettura, per chi di voi la farà, di grandissimo piacere, perché nonostante che dentro, come spesso è nei libri di Marco, ci siano dei momenti molto drammatici, tragici anche, tutto è sempre molto alleggerito da una scrittura che è capace di alternare il momento appunto drammatico a un momento più ironico, a volte anche comico, e che permette di restituire quella impalpabile cosa che è la vita, che alterna appunto momenti di bellezza assoluta a momenti di nero incredibile. Che tipo di libro è questo di Marco? Secondo me è un romanzo a tutto tondo, Il romanzo moderno per me comincia nell'Ottocento quando esce dal raccontare le avventure sulla strada e entra nel raccontare le avventure di un'anima, di un'interiorità, e per poi uscire di nuovo a mettere in rapporto quest'anima con le cose che gli stanno intorno, e cioè la casa, le strade, la città, le persone che circondano il protagonista. E questo appunto è quello che fa Marco nei suoi libri in generale e nei libri di Bordelli in particolare e in questo ancora più in particolare. Io credo che, non so quanti di voi aspettano di leggere questo libro per scoprire le trame complicate di un giallista che si mette lì a tavolino per depistare il lettore. Forse c'è qualcuno, ma io credo che la maggior parte di voi si attenda a un altro capitolo nella conoscenza di un uomo, di un personaggio che è appunto Bordelli, Franco Bordelli. Quindi è un romanzo in cui il protagonista per di più fa il commissario, il che gli permette di entrare in contatto con delle situazioni limite dell'umano che normalmente le persone che fanno altri mestieri non vedono. E proprio in base a questo riesce a provare delle cose profonde e a restituirle a noi che le leggiamo facendoci fare ogni volta un pezzettino di più nella conoscenza di questo personaggio. Allora, la prima domanda che mi viene da farti, Marco, è questa. Intanto se fin dall'inizio avevi pensato di fare un libro così grande, che è pieno di tante cose che poi vedremo, magari un po', oppure se ti si è allargato tra le mani un po' improvvisamente. E la seconda è legata, cioè nello scrivere questo libro che ha a che fare con un personaggio seriale ormai molto noto, molto conosciuto, basta vedere questa sala, e quindi dove tu scrivendolo vai a seguire una strada già tracciata, non hai bisogno di ridefinire il personaggio Bordelli. Il personaggio Bordelli loro sanno bene chi è. In questa tua scrittura prevale quindi la felicità di sapere che c'è una persona che condividi, un personaggio che condividi col tuo pubblico, o in certi momenti magari una fatica di avere troppo la strada tracciata, quindi di dover seguire delle guide che sono già state piazzate nei romanzi precedenti. Lo dico anche perché la prima cosa che leggerete aprendo il libro sono tre righe che lui scrive in esergo è O lettore, tratta questo libro con rispetto perché la sua stesura durata molti mesi è stata causa di notti insonni, di abbassamento della vista e di dolori alla schiena. Era solo un malessere fisico o c'era anche una fatica creativa? Scusate, mi viene da ridere. Buonasera, intanto grazie di essere qua. Io sono contentissimo di avere due amici che mi hanno fatto questo regalo di presentarmi, due amici che stimo moltissimo come scrittori. Dunque la prima domanda, no non sapevo che la lunghezza sarebbe stata questa, io non rileggo mai nulla prima di aver finito e non conto troppo le pagine, se non quando arrivo dopo qualche mese vedo che continua a srotolarsi la storia e non vedo la fine ancora. Allora dico fammi vedere un po', e vedo 800.000, 900.000, un milione di battute. e non era previsto anche perché io non progetto i romanzi, non faccio scalette, non so molto di quello che succederà, se non due o tre elementi e tutto quello che hai detto tu, i personaggi, l'ambientazione di 60 e il commissario. Dunque è chiaro che c'è qualcosa di fisso e poi tutto il resto viene con mia grande sorpresa spesso. che non era assolutamente prevista questa lunghezza, anzi, alla fine ho dovuto scartare parecchie cose che andranno a finire nel prossimo romanzo. Ho già un po' di materiale per il prossimo romanzo, che arriverà prima questa volta, non dopo tre anni ma dopo due, consentitemi, perché poi i libri vanno scritti, poi per leggerli ci vuole meno. e l'altra cosa, no, io se non amassi tuffarmi di nuovo nell'atmosfera del commissario degli anni 60, non iscriverei. Mi diverto, mi piace moltissimo ritrovare tutti i personaggi e nonostante, come dicevo prima, nonostante i punti fermi, riesco a trovare tante sorprese e a cercare di andare a scovare qualcosa di nuovo anche dentro il personaggio, che continuo a conoscere sempre di più anche io mentre lo racconto. e questo per me è un gran divertimento. Per me la scrittura è una scoperta e non un'invenzione. Non mi piace pensare di pilotare i miei personaggi e fargli fare tutto quello che voglio io, fargli dire quello che voglio io, ma mi lascio a una sorta di dialogo, per cui i personaggi a volte mi portano in delle zone che non sospettavo, appaiono personaggi nuovi, situazioni nuove, mi arrivano così, come dei regali. E io poi ho imparato a capire che questi regali sono la cosa più divertente da seguire. Allora, tocca a me. Buonasera a tutti. Io ho avuto il privilegio, come del resto anche Valerio, di leggere questo romanzo prima di tutti voi e addirittura in una versione precedente, una versione in cui c'era ancora qualcosa da scrivere e non credevo che ciò fosse possibile perché quando Marco mi ha mandato il file in Word del romanzo mesi fa, beh, già colpiva la mole di questo romanzo, una mole quasi impressionante e quando mi ci sono tuffato io devo dire cosa mi ha colpito all'inizio. Ecco, io ho seguito negli ultimi romanzi di Marco una trasformazione. I primi romanzi, è vero, lui non ama definirsi giallista, anzi lo aborre completamente, però i suoi vecchi romanzi avevano comunque una struttura riconducibile al genere del giallo, comunque della storia in cui c'è da risolvere un enigma o qualcosa. Pur rimanendo in questo romanzo, questa struttura è talmente diluita in una quantità straordinaria di spunti, di stimoli, che è proprio la sensazione nella lettura è proprio quella di perdersi, perdersi dove? In un viaggio, secondo me, in questo romanzo, che è straordinario per la sua, oltre che per la lunghezza, per la sua profondità, direi, emotiva. Ecco, è un romanzo di cuore. Qui ci troverete più cuore che nei romanzi precedenti. Prima accennavo appunto al fatto che negli ultimi romanzi io ho visto un'evoluzione nella scrittura di Marco, un'evoluzione che andava più, sempre più, verso l'approfondimento dei personaggi, ma un approfondimento che ha a che fare proprio con il cuore. Io devo sottolinearla, questa parola. Il romanzo precedente si chiama Fantasmi del passato. Ecco, io penso che anche questo si sarebbe potuto chiamare Fantasmi del passato, soprattutto perché in questo romanzo ci sono tanti fantasmi veri, autentici, e sono quelli la chiave della lettura. Voi incontrerete una serie di personaggi che, in cui si imbatte bordelli, e sono vecchi compagni d'armi, morti durante la guerra, ma anche altri tipi di personaggi. Ecco, anch'io voglio fare una domanda a Marco. Voglio chiedergli se proprio se è stato questo romanzo come io a me pare di intuire un viaggio soprattutto dentro se stesso, dentro una memoria profonda sua che ha a che fare appunto con il sentimento, ma non il sentimentalismo, badate bene, il sentimento, e se questi personaggi che incontra, uno su tutti, credo di non fare, come si dice oggi, spoiler a dirlo. voglio ricordare la figura di un vecchio fiorentino di Oltrarno che quando era bambino ha rubato una paperella a una bambina. Ecco, questo è uno spunto che, beh, io credo veramente uno scrittore di quelli con la S, la C e la R e tutte le altre lettere maiuscole possono affrontare senza paura. perché su questa, questo furto, eh, che forse è il furto più importante di tutto il romanzo secondo me, è lui, è quello il furto che è il fulcro della narrazione. In quello c'è l'essenza di questo romanzo. È una storia commovente, non dico altro, se no ovviamente rovino, però io voglio sapere da Marco se questi personaggi sono stati, sono personaggi che si potrebbero definire artifici narrativi, cioè inventati completamente, sapete come funziona, si vuole affrontare scrivendo un argomento e si cusce un personaggio che rappresenti la storia che si vuole narrare. Ecco, io invece voglio sapere se questi sono personaggi veri, autentici, se hanno a che fare con la memoria personale, o tua o di qualcun altro, perché si rubano le memorie. Ecco, questa è la mia prima domanda. intanto avete capito che io ho promesso che offro la scena a loro due perché dicono delle cose talmente belle. Allora, io di solito non rispondo mai a queste domande, cioè nel senso quel personaggio lì è vero, l'hai conosciuto davvero, l'hai incontrato davvero. Mi piace lasciare un po' di mistero. Certamente in questa storia c'è una, ci sono delle verità sentimentali forti che hanno trovato la possibilità di essere raccontate in questo romanzo per non so quale motivo. A un certo punto mentre scrivi arrivi a un punto per cui il materiale della tua vita che hai, metti continuamente in questa grande cassa panca della memoria ogni tanto saltano fuori e ti servono per affrontare quel momento del romanzo. E questa è un po' anche la bellezza della scrittura. Ci sono a volte ricordi di vent'anni fa che escono fuori in quel momento lì che erano stati completamente abbandonati e dimenticati. E a un certo punto si svegliano perché per associazione la storia passa da una certa strada e ecco che saltano dentro il romanzo in modo molto naturale oppure appaiono così a sorpresa senza un vero motivo e me li trovo davanti e sento che quel momento lì è giusto per affrontare quelle pagine quelle pagine in quel momento lì. È molto difficile dire come il materiale narrativo entri in un romanzo perché è una specie di enorme calderone da cui lo sapete bene voi da qui a un certo punto si sfilano escono fuori questi materiali che casualmente sembra casualmente sono veramente giustissimi per raccontare quel momento lì. insomma è proprio bello scrivere per me è bello anche per questo perché non si butta via nulla come si diceva una volta del maiale non si butta via niente tutto quello che ci ha attraversato può essere usato narrativamente questo è bello perché non c'è spreco è ecologico diciamo d'altra parte quindi prima di passare la parola a Valerio mi viene sempre a mente un verso di una canzone di cui avevo giurato che è un cantautore italiano ingiustamente dimenticato che diceva bimba non andare con i cantautori che poi finisci nelle canzoni quando incontrate Marco Vichi lui è come un maestrom un gorgo che ingoia tutto quanto e poi al suo uso e consumo a volte diventa una minaccia stai attento che ti mettono un romanzo che ti mettono un romanzo e quindi ti piace scrivere nonostante il mal di schiena e poi in quella citazione scusami se ti dirò è assolutamente vera nel senso che durante la stesura di questo romanzo avevo sbagliato io la posizione della sedia sono dovuto andare dall'osteopata e mi si è abbassata la vista ho dovuto cambiare le lenti degli occhiali e le notti insonni sono negli ultimi mesi due tre mesi ho capito che ho capito l'editore mi diceva il giorno di uscita ho saputo il giorno di uscita tipo a maggio sapevo che usciva il 16 novembre a maggio ho fatto un po' di conti e ho detto sono in ritardo e da quel momento lì diciamo l'orario di lavoro si è allungato sempre di più ma questo tipo di citazioni l'ho rubata agli amanuensi del basso medioevo che alla fine di un codice miliato aveva lavorato all'uomo di candela scrivevano anche di questi appelli o lettore rispetta questo libro perché è costato la vista e l'ingobbimento insomma e allora l'ho copiato insomma io non ho la candela ma insomma la fatica fisica c'è stata grandissimo divertimento ma la fatica fisica c'è soprattutto se sbagli l'altezza della serie ora l'ho capito ho preso una sedia che si alza e si abbassa ma ho avuto dolori infernali ecco uno dei temi che secondo me sono forti in tutti i libri di Bordelli ma in questo mi sembra in particolare è l'espressione della fiorentinità e te lo dico questa è una parola un po' pericolosa perché noi che scriviamo mi posso un po' immedesimare in lui cerchiamo sempre di raccontare una cosa anche molto piccola privata racchiusa all'interno di un punto preciso territoriale sperando che diventi universale e l'idea di un fiorentinismo magari ci fa storcere la bocca però io invece credo che il personaggio dei bordelli davvero esprima in senso alto la fiorentinità e cioè quel rapporto unico che c'è tra la vita e la città che abbiamo a Firenze unico non perché sia più alto che in altre situazioni ma perché ha delle caratteristiche che solo lì possono venire fuori e cioè questo continuo altalenarsi tra una certa diffidenza però allo stesso tempo una forte apertura quando il personaggio si rende conto della sincerità di chi gli ha di fronte il continuo barcavenarsi tra battute di spirito anche taglienti che sono tipiche e adeguate al tipo di roba tagliente che c'è nelle pietre di Firenze e poi momenti di di tenerezza improvvisa in cui il cuore come diceva Leonardo prende il sopravvento tutto questo è fortemente fiorentino è fortemente riconoscibile forse in una Firenze che oggi si riconosce meno cioè io nei tuoi libri vedo riascolto una Firenze che posso pensare esistesse così fino a metà degli anni settanta rubo una definizione a Leonardo che parlandone mi diceva fino a amici miei escluso e che poi ha cominciato piano piano a intorbidarsi a perdersi quello spirito c'è ancora ma insomma è mischiato a tante cose insieme allora primo volevo chiederti se sei d'accordo di esprimere attraverso bordelli questo carattere insostituibile che c'è nei fiorentini e secondo mi chiedo e ti chiedo il fatto che tu abbia scelto come personaggio che in qualche modo è anche un tuo alter ego diciamo così una persona nata quasi 60 anni prima di te e quindi con tutte le difficoltà del caso perché una cosa è eleggere a personaggio seriale e quindi dove puoi trasferire facilmente tutte le tue emozioni in un coetaneo che prova più o meno le cose che provi tu nel tempo in cui le provi tu più difficile è immaginarsi cosa una persona prova nel 1930 40 50 non essendoci stati lo puoi fare per un libro ma ripeterlo per sette libri è molto difficile mi chiedo hai scelto questa difficoltà perché ti interessava raccontare quella Firenze lì che poi invece si è persa oppure è nato tutto come tu dici spesso più casualmente e poi si è sviluppato così per altre ragioni ma guarda la prima volta che ho scritto di Bordelli era il 95 io non avevo ancora pubblicato niente era già quasi 15 anni che scrivevo e che non riuscivo a pubblicare e avevo faccio una mini genesi di Bordelli a un certo punto mi sono scontrato con un autore meraviglioso che si chiama Friedrich Durremath che ha usato il poliziesco per fare come dico sempre indagini umane non indagini criminali e mi sono innamorato di questo scrittore e non amando assolutamente il genere giallo mi è venuta voglia di provare a gettarmi nella mischia del poliziesco insomma mi sono detto voglio vedere cosa succede ma perché lui mi ha fatto vedere cosa si può fare con un commissario e le prime pagine che conservo ancora perché sono un archivista malato proprio tutte le cose archiviate le prime pagine di Bordelli erano ambientate nel 95 le prime tre pagine poi andando avanti è stato lui che va bene è salito su Maggiolino aveva una mentalità ho capito che non era di questa epoca e lì subito mi sono detto gli anni 60 bellissimo la ricostruzione di un mondo perduto ricostruito nelle atmosfere principali dal fatto che io ero bambino negli anni 60 mi ricordo molto bene quell'epoca a livello come dire quasi animale un bambino che si muove in quel mondo e che ricorda le atmosfere di quel mondo e poi crescendo nella mia famiglia per rispondere alla tua domanda ti dici l'alter ego secondo me mi ispiro molto anche a mio padre non lo sapevo non lo sapevo prima quando ho cominciato ma io anche per la fiorentinità per queste cose per queste situazioni di Firenze il carattere di Firenze mi mi ricordo molto di mio padre il mio padre i suoi amici le situazioni ecco quello mi aiuta mi aiuta molto a a tenermi dentro questa questa atmosfera per cui gli anni 60 sono casuali diciamo così sono arrivati e li ho accolti immediatamente e sulla fiorentinità sono assolutamente d'accordo ho provato a immaginare Bordelli ambientato a Milano non c'entra niente cioè non sarebbe possibile dunque è assolutamente connaturato a questa città e poi sul fatto della speranza di diventare universale assolutamente cioè uno ci prova nel senso tu racconti bene chi era ceco che diceva racconta bene il tuo villaggio e racconterai il mondo cerchi di farlo cerchi quando racconti l'uomo poi alla fine può succedere che tu riesca a toccare le corde anche di un francese di un inglese di un tedesco attraverso il racconto dell'umanità dei personaggi questo è il tentativo e la speranza ogni volta che uno racconta una storia quindi a questo punto intervengo io perché io e Valerio ci siamo spartiti un pochettino agli argomenti e una delle cose che mi ha colpito di più in questo in questo romanzo e che ho trovato più frequente che nei romanzi precedenti è una cosa che mi sta molto a cuore e cioè l'uso si parlava di fiorentinità intesa come modo di vivere come modo di essere io so che Marco è molto critico verso la fiorentinità ce l'ha particolarmente con una certa fiorentinità in fingarda mentre coglie moltissimo la fiorentinità più positiva quella più sprezzante quasi dantesca ecco questa è la fiorentinità però questo si riverberà anche nella scrittura o meglio nei dialoghi più che nei romanzi precedenti qui ci sono dei dialoghi in fiorentino e questo mi colpisce molto perché è intanto un fiorentino molto diverso da quello che oggi siamo abituati a recepire soprattutto in televisione diciamocelo ecco prima abbiamo detto da amici miei escluso perché escluso perché quello rappresenta un momento in cui la lingua e il parlare fiorentino si è involgarito si è ha perso di significato di significanza proprio di spessore io mi trovavo per caso ora faccio veloce non vi voglio annoiare perché voglio dare subito la parola a Marco però una cosa ci tengo a dirla io ho trovato per puro caso mentre pensavo a cosa chiedergli un libro di malaparte di cui ora maledettamente mi sfugge il titolo il titolo di questo libro in cui lui parlava male di Papini di Giovanni Papini che è un autore che oggi magari dice pochissimo a pochi e ne parlava male perché ne criticava l'uso del fiorentino proprio del modo di costruire la frase fiorentina diceva questo è molto diverso da quello che invece nella parte più viva della città costituisce ancora l'essenza della fiorentinità la mia ha colpito molto questo perché io ho trovato non dico dove quando lo scoprirete voi degli scopi delle parti in cui ci sono questi questi dialoghi in fiorentino ecco io voglio sapere se questo fiorentino da dove l'hai preso se è un fiorentino letterario perché c'è attenzione addirittura alla lingua del quartiere qui si parla molto di Oltrarno di Sanfrediano Sanfrediano quasi è il cuore pulsante di questo romanzo è una cosa straordinaria perché io mi domando sempre ma se lo legge se un romanzo di Bordelli viene letto come viene letto e apprezzato tantissimo anche a Gallarate cos'è che funziona funziona il fatto che questa lingua significa qualcosa intanto ne ho fatto un uso molto limitato però è vero che è la prima volta perché ci sono dei personaggi delle situazioni e un'età dei personaggi per cui l'italiano normale era quasi impossibile mi è stato proprio strappato dalla penna perché sarebbe stato un falso ecco e nello stesso tempo ho cercato di limitarlo a certe espressioni una specie di lavoro di Mimesi alla fine simuli una lingua e attraverso la lingua dovresti vedere l'aspetto della persona è un po' come ecco è un po' come tutti i dialoghi dei romanzi nei film avete l'immagine della persona che dice una battuta per cui basta anche che faccia un'alzata di spalle un'espressione ha già risposto nei dialoghi dei romanzi il tentativo di chi scrive è quello di attraverso le parole di farvi vedere l'espressione del viso cioè nelle parole deve essere contenuta l'immagine della persona che vi sta davanti e in questi dialoghi in Fiorentino era per questo motivo qua ho provato a scrivere l'italiano e non mi tornava cioè era assolutamente impossibile che parlassero un italiano normale una vecchietta di 80 anni negli anni 60 nata alla fine dell'ottocento cresciuta a Sanfrediano e non può parlare un italiano perfetto ecco mi sembrava veramente di tradire il personaggio e allora lì ho ceduto perché io non amo molto scrivere le cose dialettali però qui ho dovuto solo che poi non è un dialetto è un'inflessione ecco di ricostruire quell'inflessione che si ritrova poi anche quando scrivi i dialoghi in italiano puro perché tutto questo poi c'è una costruzione della frase che descrive il personaggio perché parlano come sono proprio poi c'è anche una parte in siciliano una parte in sardo perché se c'è una storia sarda ci sono che non è dialetto sardo ci sono è la costruzione della frase qualche parola quella cercando di far vedere meglio la persona che sta parlando il tentativo era quello lì ho dovuto farlo questa volta questo romanzo comincia lunedì 29 aprile lunedì 29 aprile 1968 e si svolge per la maggior parte nel maggio del 1968 quindi è il grande incontro di bordelli col 68 e ne vediamo delle grosse parti dentro il libro ci sono delle descrizioni dei tumulti delle manifestazioni violente che ci sono in quel periodo fatte con assoluta precisione e che rendono esattamente il tipo di atmosfera che si poteva trovare in quel periodo girando per strada come io la posso aver vista in dei filmati o in ricostruzioni sonore dell'epoca perché ero troppo piccolo per andare alle manifestazioni però quello che è più interessante ancora è il riflesso che queste cose hanno sull'animo di bordelli lui ha nei confronti del 68 un atteggiamento duplice come spesso ha appunto questa sua duplicità e all'inizio è quasi un po' diffidente appunto vede queste proteste dei ragazzi un po' velleitarie e gli viene in mente la lettera che proprio in quel periodo dopo gli scontri di Valle Giulia molto famosa pubblicò Pasolini sul Corriere la Sera e gli sembra giusta in un qualche senso gli sembra giusta che questi ragazzi si rendano conto che quelli contro cui stanno andando sono figli del popolo molto più di loro e quindi tengano conto di questa distinzione però allo stesso tempo ne è attratto è attratto dal fiorire della società che c'è in quel momento è attratto dalla possibilità che comunque questi ragazzi riescono a modificare dei rapporti di forza incrostati da secoli e che possano provocare uno smottamento e che da quello possa venire fuori qualcosa di buono c'è per esempio un bellissimo dialogo tra Bordelli e uno dei personaggi di contorno non vi sto a dire che ruolo ha è la signora Gualtieri lo troverete quando leggerete il romanzo in cui lei è una signora moglie di un imprenditore vive a Pian dei Giullari in una villa bellissima e Bordelli la va a va a parlarci in maniera all'inizio estremamente appunto diffidente poi piano piano entra in contatto e riesce a cogliere anche l'umanità che c'è dentro una persona del genere nascosta sepolta sotto chili di educazione di un certo tipo però ecco questo rapporto ambivalente ce l'ha appunto un po' con tutto il movimento del 68 per esempio è molto attratto dalle minigonne che in quel periodo cominciano a spadroneggiare sulle vie della città e in qualche senso questo libro secondo me è anche un po' un libro sulla seduzione non solo sulla seduzione nei confronti delle donne che c'è da parte dei bordelli un continuo tentativo di entrare in contatto in un contatto scherzoso ma che comunque è sempre seduttivo ma anche proprio seduttivo nei confronti del mondo come se la seduzione fosse una modalità di conoscenza lui ha a che fare con un paio di questi giovani che manifestano nel 68 e ci ha dei dialoghi molto ficcanti dove tutti e due imparano qualcosa dell'altro sono veramente dialoghi nel vero senso della parola è un romanzo sul 68 e proprio nell'ambito del 68 entra in scena un personaggio che nel romanzo ha un ruolo di contorno ma che è invece importante in altri romanzi che è il personaggio del colonnello Arceri prodotto da Leonardo Gori e ci sono più scene in cui Bordelli e Gori come già in altri romanzi si incontrano e siccome Arceri esce praticamente se ricordo bene da per incontrare Bordelli dal suo romanzo dal suo proprio romanzo sul 68 che è il ritorno del colonnello Arceri ero curioso di capire un po' da tutti e due come avete gestito questo incrocio come vi siete spartiti le parti chi ha scritto cosa chi ha inventato cos'altro chi comincia ma allora intanto i due personaggi perché li conosci sono diventati molto amici fantasmi del passato poi lui in questo momento è molto più veloce di me va avanti già al 70 al 70 dico aspetta mi aspetta che lui non mi aspetta io sono ancora al 68 mi manca al 69 al 70 per raggiungerlo mi sono fatto promettere che lui torna agli anni 30 con Arceri che mi aspetta perché se no bisogna poi ecco ok benissimo il 71 bisogna farlo parallelamente così almeno ci scambiamo facciamo dei crossover ancora più divertenti è vero Bordelli è molto affascinato dal 68 ma spaventato come un uomo nato nel 10 che si ritrova di fronte a un mondo con dei giovani che sono completamente diversi dai giovani della sua della sua giovinezza però lo salva una cosa Bordelli è curioso è curiosissimo ma la curiosità più nobile cioè vuole capire che cosa sta succedendo e allora a volte c'è una scena dove lui va a cercare un ragazzo che ha visto entrare in un palazzo durante una manifestazione che è inseguito dai celerini lo va a ricercare fa di tutto per andarci a parlare e c'è questo dialogo che è un dialogo che fra pregiudizi mi piaceva molto questa cosa tutte e due hanno dei pregiudizi cioè il ragazzo ha davanti un poliziotto cioè un fascista e lui è davanti un ragazzo che tira le molotov sicché è un rivoluzionario e alla fine succederà qualcosa perché il pregiudizio politico che poi verrà dopo dopo gli anni 70 mi ricordo la cosa mi fastidiva di più come raccontava Gaber nella famosa canzone il bagno è di destra e la doccia è di sinistra tutto era politicizzato era non scappava cosa mangi cosa fai come dormi come ti vesti tutto tutto era politica te governavi uno per la strada dicevi quello è un fascista quello è un comunista e c'erano anche i fratelli nella stessa famiglia uno fascista e uno comunista che si davano le sprangate in piazza e poi mangiavano alla stessa tavola alla sera questo era c'è un tuo racconto c'è un tuo racconto straordinario su questo e questa è un po' la situazione però Bordelli quello che salva Bordelli è la curiosità lui si sente franare la terra sotto i piedi perché non riconosce più quel mondo vede tutta questa violenza e vede questi giovani completamente diversi anche nell'abbigliamento e poi però invece di dire vada e retro vuole andare a metterci il naso vuole capire assolutamente che cosa succede anche per cercare di adattarsi cioè il mondo cambia se lui non cambia viene spazzato via allora lui ha voglia di capire se riesce a riadattarsi a questo a questo mondo nuovo e mi fa tanta tenerezza questa cosa in Bordelli Battaglione San Marco Poliziotto squadra insomma indaga sugli omicidi e poi si trova veramente spiazzato di fronte sia alle donne che a questo a questo mondo che sta cambiando mi fa molta tenerezza a questo punto si può capire che nella fase attuale della dell'evoluzione narrativa dei romanzi di Bordelli non si può più parlare di narrativa di genere ecco una cosa che mi veniva proprio evidente sfogliando questo questo straordinario anche come lunghezza romanzo era quello che qui l'indagine ma di qualsiasi tipo qui l'intreccio la trama stessa non aveva più ragione di essere questo è un romanzo che rappresenta una fetta fondamentale del novecento questo è un romanzo sul sessantotto ma è un romanzo romanzo ecco io credo di sapere in anticipo la tua risposta ma questo è veramente ormai un superamento del genere questa non è più narrativa popolare o meglio questo è alla base io ti baci cerco di guadagnarmi la scena di stasera sì io come dicevo prima non sono un amante del genere poliziesco cioè chiariamo non mi piacciono i libri dove il meccanismo dell'indagine è tutto dove dall'inizio alla fine si parla solo dell'indagine e ogni pagina manda avanti l'indagine con indizi depistaggi con qualcosa con cui il lettore può fare a gara dice sì ho capito chi l'ha ammazzata a me non mi importa nulla se il lettore a pagina 3 sa chi l'ha ammazzata a me interessa capire quello che ha ucciso chi è cosa fa cosa ha dentro perché lo ha fatto mi interessa tutto quello che c'entra molto poco con la scoperta con l'indagine il meccanismo dell'indagine piano piano più che vado avanti con bordelli e meno più l'ingrediente diciamo poliziesco diventa sempre minore c'è per carità c'è questo filo teso dentro però diventa sempre minore e spero che il racconto del commissario della sua anima del tutto il contorno dei personaggi sia come dire emotivamente coinvolgente come un come un meccanismo che che ti deve tenere all'amo diciamo così spero questo appunto ma nei romanzi se io leggo un bellissimo un bellissimo romanzo di tensione per usare una formula che abbraccia un po' tutto che so un romanzo di Fred Vargas mi viene così a mente ora io mi faccio una domanda dall'inizio alla fine che sostanzialmente ha a che fare con chi è stato come come perché chi e perché ha ucciso il tale ecco in questo romanzo pur essendoci come dici te una serie di anzi sono tre se non sbaglio gli omicidi in pratica tre omicidi che poi hanno una loro conseguente spiegazione esauriente non si lascia nulla sospeso anzi io odio se no l'avrei chiuso il romanzo e l'avrei messo via perché nei romanzi dal mio punto di vista ci deve essere una conclusione non si può lasciare sospeso in quel senso ma qui io mi sono fatto un sacco di domande leggendo questo romanzo ma io volevo sapere soprattutto io torno a quella paperella che per me è stato il momento in cui proprio sentivo che il cuore del romanzo stava battendo era di cioè io le domande che mi sono fatto in questo romanzo avevano a che fare con alcuni personaggi che con gli omicidi non avevano nulla nulla a che fare anche con la laurea di Piras è un'altra cosa che mi ha che mi ha colpito ma non si dicono queste cose è vero questo è terribile ho detto una cosa che mi costerà cara salti l'antipasto e su questo per evitare altri danni forse possiamo chiudere qui ringraziamo Leonardo Gori Marco Vini Valerio Aioli prima 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 di salutarci mi piacerebbe anche rendere omaggio a questi due amici parlando del vorrei dire il titolo del tuo ultimo romanzo è Lo stesso vento pubblicato da Vodan che è veramente un libro meraviglioso e si dovrebbe trovare qua ecco vi consiglio di leggerlo perché è veramente un libro fantastico e invece Leonardo addirittura c'è il prossimo libro lui ha portato una copertina casualmente abbiamo qua la copertina casualmente ho qua una copertina del libro che uscirà a febbraio bene uscirà a febbraio ma vi volevamo far vedere anche questa bellissima copertina di Francesco Chiacchio che è il disegnatore delle copertine di Leonardo degli ultimi 4-5 romanzi che ha inventato questo segno per lui in libreria se vedete non esiste nessun libro con questa tecnica con questo segno sono tutti copertine diverse ma riconoscibilissime dalla tecnica pittorica diciamo io dico sempre Francesco comprate i libri per le copertine di Francesco perché sono una galleria d'arte poi strappate la copertina la incorniciate e il libro lo buttate poi Arceri lo troverete a febbraio qua dentro ma poi ne trovate tanto in questo romanzo di Marco lo troverete dopo a tutto ormai sono amici per la pelle bene Leonardo Gori grazie l'ultima scelta Valeria Iolli lo stesso vento grazie grazie vi vedete